Sono 1.654 i nuovi positivi al coronavirus in Campania. Il dato emerge dal bollettino dell'unità di crisi della regione che ha comunicato gli esiti dei 27.736 tamponi esaminati. 1.657 invece i nuovi guariti del giorno. L'Asli Salerno ha intanto annunciato l'Open Day e l'Open Week dedicati alla vaccinazione degli over 80 e della fascia di età 60-79 anni ancora non iscritti alla piattaforma. L'Open Day si terrà l'1 maggio e vedrà il recupero degli over 80 non ancora iscritti alla piattaforma. L'Open Week si terrà invece l'1 ed il 2 maggio al centro vaccinazioni di Matierno e in altre sedi distrettuali della provincia per incrementare le vaccinazioni della fascia di età 60-79 anni. Finalmente abbiamo qualche dose di vaccino in più. Questa opportunità ci permette di avviare un'operazione di potenziamento delle campagne vaccinali. Il 1 maggio facciamo un Open Day aperto alle persone over 80 che non si sono iscritte in piattaforma. Per cui sarà aperta la partecipazione diretta. Tutte le persone che hanno avvi sopra degli 80 anni potranno tranquillamente recarsi al centro vaccinale a Salerno, al centro sociale di Pastena e saranno iscritti direttamente in piattaforma e successivamente vaccinati. Questo potrebbe comportare qualche ritardo in più, qualche affaticamento in più. Stiamo tutti tranquilli. Quindi se poi i numeri sono talmente grandi vuol dire che continueremo a farlo anche nei giorni successivi, programmeremo un'azione successiva. Questa è un'iniziativa molto importante perché ci permette, e in questo serve l'aiuto anche vostro, ci permette di recuperare le persone ultraottantenni che per motivi non, sicuramente io gli ultraottantenni no vax non lo immagino, sicuramente per motivi per bisogno di aiuto non si sono iscritti. Allora o si recano di persona o già in questi giorni il segretariato sociale dei comuni, lo farà il Comune di Salerno, le strutture comunali di supporto, i medici di base, le farmacie, i familiari, chiunque dà una mano a iscriverli in piattaforma, noi dobbiamo vaccinare tutti gli ottantenni. Quelli iscritti in piattaforma li abbiamo già raggiunti, ci sarà qualche coda ma li abbiamo già raggiunti, dobbiamo però raggiungere gli ottantenni complessivi, gli over 80 in serie Istat. Con questo strumento noi facciamo uno sforzo per allargare questa platea e completarla. Fianco a questo c'è la seconda iniziativa, quella programmata per sabato e domenico, in cui vaccineremo da 60 a 79 anni a Salerno, al centro sociale di Matierno e dall'altra parte, le persone questa volta iscritte in piattaforma, però non convocate, si possono anche lecare direttamente, saranno vaccinate con i criteri dell'età, a partire da 79 anni a scalare, anche in questo caso, tutti tranquilli, nel caso in cui non si riesce a vaccinare tutti quelli che si presentano, si farà una lista aggiuntiva e nei giorni successivi si continueranno a vaccinare le persone. Poi l'ultima raccomandazione che è cruciale, non bastano le vaccinazioni, continuiamo, continuiamo anche in questa atmosfera di maggiore possibilità, perciò ancora di più dobbiamo rinforzare questa azione, mascherine, non le possiamo togliere, continuiamo a tenere mascherine, mi raccomando, mascherine, distanziamento a un metro di distanza, a un metro e mezzo, due, ancora meglio, purizia delle mani, purizia degli effetti intorno a noi, e di questi giorni la notizia che anche dalle nostre parti, sui materiali dei supermercati, sull'autobus, sulle cose si ritrovano tracce di virus. non limitiamoci a una purizia superficiale, sanifichiamo gli ambienti, sanifichiamo gli ambienti, teniamo le distanze, usiamo le mascherine.